È stato presentato ieri sera alla stampa un nuovo comitato spontaneo che ha l'intenzione di proporre soluzioni alternative alla viabilità al centro di Arco. Come se non bastassero i comitati esistenti e le idee del Comune su come far passare il traffico dal centro, ecco la nuova idea, ripercorrere il tracciato della vecchia ferrovia. Sentiamo l'intervista. Viene presentato questa sera il neocomitato Centro Anch'io. Sentiamo di cosa si occupa da uno dei portavoce. Salve. Allora, il comitato che è appena nato ha come nome Centro Anch'io e vuole sottoporre all'amministrazione comunale alcune idee di viabilità e di sviluppo del centro di Arco che sono state elaborate da comuni cittadini come noi. Ci sono anche alcuni commercianti come per esempio Marcello Berlanda, la Patrizia Ganda, lo Stefano De Toni, Ivan Delvai e altre persone che adesso non sarebbe un po' troppo lungo da citare, che hanno una visione per il centro che possa in qualche modo risolvere tutte queste polemiche che sono nate con l'attuazione del PUM, della viabilità. Quindi noi praticamente ci proponiamo l'allargamento del centro storico, quindi la pedonalizzazione di Via della Cinta fino ad arrivare qui in Via Garberie, però chiaramente tramite la creazione di un percorso alternativo che deve sostituire necessariamente questo percorso che è molto trafficato. Questo percorso alternativo che noi abbiamo elaborato, in sintesi, è quello della riproposizione del vecchio tracciato della ferrovia Loppio Busa che praticamente venendo da riva passa davanti al Villa delle Rose poi fa via Badain Powell e poi va in direzione dei campi sportivi, quindi con la creazione di un nuovo ponte sul Sarca che possa in qualche modo creare una sorta di variante più stretta rispetto alla circonvalazione che sarebbe sicuramente troppo lunga da fare e sicuramente da non appesantire ulteriormente perché è esperienza comune il fatto di percorrere la retta Arco Riva nelle ore di punta sappiamo il traffico che troviamo all'altezza della rotatoria del Poli che ormai è quasi insopportabile quindi bisognerebbe cercare di non caricare ulteriormente quella direttrice.